Anche ad Agropoli le Sardine scendono in piazza il giorno 14 dicembre alle ore 19. L'appuntamento è in piazza Vittorio Veneto dove tra canti, performance e la lettura degli articoli della Costituzione si animerà il flash mob sulla scia degli altri eventi analoghi nazionali. Il movimento delle Sardine, nato a Bologna qualche settimana fa dall'idea di un gruppo di giovani emiliani, tenta di opporre un dissenso gioioso ma forte alla politica della Liga e in particolare mette in discussione gli atteggiamenti e le scelte xenofobe, razziste, disgerganti del suo leader. In modo molto semplice ed estemporaneo le Sardine dicono no al razzismo, dicono no ad una politica volutamente populista e urlata, povera di contenuti e altamente discriminatoria soprattutto per i più deboli. Una politica che tende a minare l'armonia di per sé già instabile del tessuto sociale italiano messo a dura prova negli anni dalla crisi economica e da una classe dirigente poco attenta al paese. Le piazze italiane con la loro festa riempiono anche un vuoto, il vuoto della politica, la politica di tutti i colori. È vero, è poco, il dissenso non basta ma può essere un punto di partenza da cui ripartire, un modo per coinvolgere tutti, confrontarsi e partecipare. La protesta corale che abbraccia tutti e ingloba tutti chiede a tutti di non chiudersi, di non staccarsi ma di dissentire da un certo modo di fare politica per poi chiedere alla politica. Non sarà facile ma il movimento è già segno che qualcuno non si arrende e che c'è tanta gente che non vuole l'Italia che una parte del paese ci propone.